Buongiorno ragazzi Buongiorno come va? Eh buongiorno che non è un buongiorno Pisto Pisto e Vogliazzi Pisto e Vogliazzi E' un buongiorno che non è un buongiorno questo E allora signori Partiamo subito Qui Grazie Ale Lo sai che ti vogliamo bene Ale? Vinci quello che devi vincere E poi ritorna qui Ale Ti vogliamo un grande Ti voglio bene come un figlio Ale Vai Davide A fine del Napoli è venita qua a romper i curiosi Ma non lo chiamo Ti coglioni ero del toro No va Aspetta 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 Ale C'è mio figlio un attimo solo Vai Davide Anche con la bianca lì Pure i napoletani abbiamo Pensa un po' Ben tornato E poi fare la foto Davide In bocca al lupo In bocca al lupo E ritorna qui Ventini l'ha fatto eh Ventini l'ha fatto Ok Ti aspettiamo qui Mi raccomando Grazie Grazie mille Prego Ciao Ale Scusate Scusate Bella canzone Ale Dai Ale Tieni duro eh Che a Napoli son cazzi tua Picchia Ti romperanno Altro che città S'appauda Ti romperanno Il cazzo Dalla mattina Alla sera Firmami questo Firmami questo Dammi questo Dammi questo Ma che cazzo S'è sportiva La manica Di rincoglioni Ciao ragazzi Ciao 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 grande Beh Questo per me Questo video per me È fenomenale È fenomenale Perché io sono d'accordo Col moto emotivo Della persona Che comunque Sei Non dico incazzato Però cioè nel senso Ci sta Tu comunque Se hai avuto un tuo giocatore Che se ne va da l'autosquadra Per andare in un'altra Che porca merda 500 miliardi di chilometri da qua Ti trovi uno Persona Rispettabile Non ha fatto niente di grave Però te lo trovi lì Che ti chiede Ma va Cioè Aspettano a Napoli Dato che Quello era il momento Per salutare Buongiorno Poi Poi da lì a Insultare In generale I napoletani No Però Non è stato Insultato nessuno Sono state dette A mio avviso Delle Sacrosante verità I napoletani Con tutte le eccezioni Perché Chiaramente Io generalizzo E quando si generalizza Si sbaglia Però Il sottotesto È sempre Con le eccezioni Sono molto Opprimenti Ossessivi Dal punto di vista Del tifo Quando venerano E quant'altro Danno e chiedono Questo è un dato Di fatto Un po' come dire Che a noi piace Il Gianduia A te Giovanni Piace il gusto Gianduia Per esempio No Ok Te hai visto? Boh sì Ce lo mangio Allora Per chi non lo sapesse Per citare Uco Labbrisi Buongiorno È andato a Napoli Però Prima di iniziare A dire le nostre Ok Dato che il ToroCast È un format di reaction Questo che è Siamo nel LimboCast Ma quando inizierà La seconda stagione Del ToroCast Sarà una stagione Legata Alle reaction Quindi se a voi Non piacciono le reaction Discrivetevi Non me ne frega un cazzo Discrivetevi Andate a vedere Altri podcast Questo podcast È così Se non vi piace Ciao Vediamo cosa ha detto Il più grande fan Vediamo cosa ha detto Il più grande fan Di Di Buongiorno Penso sulla faccia Della Terra Dopo Ari 98 Che è il Sior Terranova Quindi vediamo un attimo La sua idea E poi diciamo la nostra Ho condiviso? Ecco Sì che detta così Sembra che io abbia salutato La città di Napoli Ma volevo dire Buongiorno al Napoli Non è ancora ufficiale I due club si sono accordati Adesso bisogna vedere Se il giocatore Accetterà la destinazione Ma si so se l'è già impazzita La roba traditore Pensavo fossi un vero tifoso del toro Pensavo ci tenesse a sta maglia Oh raga Ma che state dicendo? Ripetiamo insieme queste sante parole Il mondo del calcio È un mondo composto da professionisti Quindi il tuo calciatore Dovi scegliere bene Ciò che vuoi Le squadre che vuoi Dove vuoi andare Cosa vuoi fare In modo tale da fare la scelta giusta Per far sì che la tua carriera Spicchi il volo E diciamoci le cose come stanno Il toro Ora come ora Ad Alessandro Buongiorno Che per me È un giocatore di prospettiva Nazionale e internazionale Cosa può dare? E facciamo bene attenzione Perché se il toro quest'anno Si fosse qualificato in Europa Allora staremmo parlando Di una prospettiva Completamente diversa Al toro non si è qualificato In questo caso Subentra il Napoli Che è vero Non si è qualificato Per le prossime coppe europee Ma due anni fa Ti ha avuto uno scudetto Quest'anno Il prossimo anno Avrà Antonio Conte Sulla panchina Quindi dal momento che Antonio Conte Alla guida della squadra Sarà di diritto Tra le squadre che lotteranno Per lo scudetto O se non per lo scudetto Per andare comunque Per ottenere un posto In Champions League In più potrei avere Uno stipendio più alto Non stiamo parlando ovviamente Di cifre come quelle Che girano in Arabia Saudita Ma potrei prendere sicuramente Di più di quello Che stai prendendo adesso Il torino Di quello che eventualmente Potresti prendere al toro E non venitemi a dire Che allora proprio per questo Un mercenario No perché Alessandro Buongiorno L'anno scorso Poteva andare all'Atalanta Addirittura quest'anno Vincere un Europa League Lo ha fatto? No perché comunque Alessandro Buongiorno Tiene al toro Ma il fatto che tenga al toro Non gli impedisce Non gli deve impedire Delle scelte Che a livello di carriera futura Possono portare Dei grandi e grossi benefici Poi io sono il primo A cui dispiace Perché io ho due maglie appese In camera E tutte e due sono Di Alessandro Buongiorno Ma proprio per il motivo Che io tengo Questo calciatore qua Sarei contento Di vederlo comunque Con un'altra maglia Per la sua carriera E non smetterò mai Di ringraziarlo Per quello che ha dato al toro Sia per quello che ha dato In campo Che per quello che ha dato Fuori dal campo Come per esempio E la lettura di non mi sperga Quindi per favore Sfatiamo questo tabù Del traditore Sono dei professionisti E in più Non sputiamo nel piatto In cui abbiamo mangiato Fino a ieri Buongiorno Cazzate Per me ha detto Una serie di minchiate Ma lascio la parola a voi Giovanni Io poi lo dico Anche nel mio video Tranquillamente Non ho problemi Io sono d'accordo con lui Io sono completamente D'accordo con lui Alla fine dei conti Ma non per Qualcosa Non per una questione Di ambizioni O altro Sì anche per una questione Di ambizioni Ragazzi Ci dobbiamo rendere conto Dobbiamo renderci conto Di una cosa Che Il pagliaccio Che ci ritroviamo Come Come presidente Il clown Che ci ritroviamo Come presidente Sono due anni Che accetta Letteralmente La prima Offerta utile Per venderlo Sono due anni Che accetta Letteralmente La prima offerta utile Che è per venderlo Dopo Nonostante Poi vado a dire in giro È il nostro capitano Non lo voglio vendere Non lo vendo Non lo vendo E poi invece Accetta la prima offerta Ecco Esatto Proprio quella Ho messo Easter E mi è apparso questo Proprio Come prima cosa È veramente incredibile Tipo a correre della sera Proprio questo Esatto Dice Non lo vendo Sente dire Un giocatore Tipo Possiamo Possiamo essere anche noi Che facciamo tutta la trafila Arriviamo Ci sentiamo dire queste cose E poi Dai fatti Vediamo Questo Che alla prima offerta buona Ci manda via Uno cosa deve pensare Non sono così importante Per la squadra Allora Non mi vogliono così tanto Allora Punto uno Punto due Io ci tengo a ricordare Che l'intesa di Massimo Non è stata trovata Tra il club E Tra il Napoli e Buongiorno Ma è stata trovata Tra il Napoli E il Torino Prima Poi si è andati Verso il giocatore E sinceramente Cioè Quella di Buongiorno È una scelta Che avrei fatto pure io Sinceramente Io posso arrivare Tranquillamente Dalla primavera A avere un carico Di ambizioni altissimo Dire vado al Toro Cambio tutto Vado in prima squadra Cambio tutto Vado a vincere Tutto con la prima squadra Poi vado in prima squadra Vedo lo stato In cui è la prima squadra Vedo che non si fa niente Per migliorare la prima squadra È una certa Una certa Il pensiero mi viene Io cosa ci rimango a fare qua Io che cosa ci rimango a fare Quindi Sinceramente Io sono d'accordo Con quello che dice Terranova Sinceramente Sinceramente Detto proprio sinceramente Pisto Master Caldo Nero Allora Io Non ho nulla Contro Buongiorno Assolutamente Perché lui è Semplicemente L'ennesima vittima Di Cairo E io sinceramente Non ho visto nessuno Che ha insultato Buongiorno Chiamandolo mercenario Traditore Perché sapevo Sì sotto Sotto il post dove c'è la foto Di lui che legge In una mia superga È pieno Boh io non li ho letto Su profilo Sì su su profilo È pieno Infatti che Terranova ha detto Una cazzata Secondo me Enorme Nel video che abbiamo appena visto Che Io tengo a lui Mi fa piacere Vederlo con un'altra maglia Ma stiamo stanzando Ma che cazzo vuol dire Mi fa piacere Vedere con un'altra maglia Scusa Non questa foto Non questo post No Quello fissato Ah ok Quello fissato Ah ok Quello fissato Comunque io C'è ancora quello fissato E dov'è Vai giù Vai giù Vai giù Scusa È quello di quando L'eletti l'anno scorso Ma scusa Non è fissato Ah non questo Ma scusa Ce ne sono due Questo No no A quello della stagione A quello della stagione scorsa Non questa che è passata Quella prima E perché senso ha Scusa Ah scusa Quello prima Quale? Questo? No Vai 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 giù Vai giù Vai giù Ma che senso ha Che gli hanno scritto le cose In un posto così vecchio Scusa Perché era fissato Ah perché l'ha fissato Ci sta È quella Quella Questa Vai intanto Pisto vai Boh Allora Secondo me Tutta questa storia di buongiorno Innanzitutto buongiorno Non ha mai detto Rimango a vita al toro Innanzitutto Ha sempre detto Di essere tifoso del toro Ma mai rimango a vita Quindi tutti questi insulti Non li capisco Alla cosa che a me Un po' scazza È che abbia scelto Cioè abbia scelto Alla fine era l'unica cosa Che poteva fare È andato al Napoli Perché io non credo Che il Napoli Sia un grande club Come possa essere l'Inter Per quanto l'Inter Mi stia sul cazzo Molto più del Napoli Però se vuoi vincere Veramente qualcosa O andavi all'estero Sicuramente non andavi Al Napoli Perché parliamoci chiaro Conte quanto rimarrà Sopra la panchina Lo sappiamo tutti Come andrà a finire E sta cosa mi scoccia E quindi mi fa credere Che in realtà Di fondo ci sia Qualcos'altro sotto E come ha detto Giovanni Prima È il pensiero di Io ho dato tutto Per questa squadra Ma questo presidente Ogni volta che è arrivato Un'offerta mi aveva già venduto Senza consultarmi Quindi quanto sono importante Per questa società Ma poi soprattutto Basiamo una campagna Sul DNA Toro E gli unici due Che hanno il DNA Toro Uno è gemello E l'hanno mandato Via a calci nel culo E l'altro è stato venduto Alla prima offerta Gli unici due Che ci tenevano A indossare la nostra maglia Quindi io sono veramente Rammaricato Schifato Assolutamente Non ce l'ho con Buongiorno Ma anzi ce l'ho a morte Con Cairo Sempre più di prima adesso Quindi Allora Il punto Per me È questo Quando Terranova Dice che Vi faccio uno spoiler I giocatori di calcio Sono comunque Dei professionisti È giusto Che vadano Nelle squadre Che gli offrono di più Anche in termini di Visibilità E di crescimento Della carriera Io non sono d'accordo Sono più che d'accordo Tant'è Che io sono il primo A dire queste cose sempre E a Avercela Con chi invece In una veste romantica E a mio avviso Fino a se stessa Presume Che chi gioca Nella squadra Del toro Deve essere Tifoso del toro No Tant'è che infatti A me non pare Che io Ce l'abbia con Rodriguez Ce l'abbia con Chi se ne No Perché sono prima A dire ragazzi Da dire una svegliata Il calcio In una favola Sono lavoratori Han tutto il diritto Di crescere Come carriera Come tutto Sti cazzi Il toro è una squadra Di merda Perché il toro è una squadra Di merda Giustamente se ne vanno E se tu vuoi il bene Di un giocatore Speri se ne vanno dal toro Però qua c'è una piccola differenza Allora Quando Terranova dice Eh però comunque Vedete che Buongiorno Non se ne era andato All'Atalanta Dove poteva vincere Cos'è qualche anno fa Di conseguenza Questo è un motivo Per ringraziarlo No È proprio lì Che sta lo snodo Della questione Buongiorno Non è mai stato Idolatrato O comunque Sì Idolatrato Dal tifoso del toro O ben voluto In quanto giocatore Forte Per quanto lo sia Ma Il motivo per il quale Buongiorno È stato idolatrato E nemmeno per il fatto Che ha giocato Da quando era piccolo Nel toro No Il motivo Era proprio Il fatto che lui Ha implicitamente Anche se non esplicitamente Perché Terranova dice Eh però Non l'ha mai detto E su questo è vero E anche tu L'hai detto Forse Giovanni Non l'ha mai Non mi ricordo Chi ha detto Non l'ha mai detto Esplicitamente Io rimarrò sempre al toro Forse non l'ha mai detto Però Non l'ha mai detto Va bene Però rimane Va bene Non l'ha mai detto Questa è l'unica Anche Terranova Mi ha scritto Questa cosa In prima Vabbè sì Mi ha scritto Questa cosa in prima Come risposta ci sta È vero Questa è l'unica cosa Che posso capire Però attenzione Attenzione Quando si sta dicendo Che bisogna insultare Buongiorno In maniera clamorosa Quello no Quello no Però Però Buongiorno Nel momento in cui Non è andato All'Atalanta Lui Ha detto Il messaggio era Io non vado all'Atalanta Non perché Chiaramente l'Atalanta È più scarsa del Tor L'Atalanta Cos'era Due anni fa Quel cazzo che era La scorsa estate Quello che era Forse sì Comunque l'Atalanta Era molto Era molto meglio messa Del Tor Lui non è andato Ma io dico una cosa Ma scusate Ma lui perché Non è andato all'Atalanta Perché voleva rimanere Del Tor E voleva rimanere Nel Tor E perché voleva rimanere Del Tor Perché in quanto Tifoso del Tor E da lì Do l'Atalanta Do l'Atalanta Do l'Atalanta Mi è compreso Tant'è che io Non dico che mi sono commosso Però lì ho pensato Cazzo Bella questa cosa Per la prima volta Mi sono un po' Mi sono un po' riscaldato A livello dell'anima Che io sono molto freddo Nel calcio Ok A quel punto lì Tu buongiorno Tu in maniera anche Implicita Però hai comunicato Il fatto che tu Metti davanti La tua fede Nessuno te l'ha chiesto Nessuno però tu Hai detto che tu Metti davanti La tua fede In quanto Tifi Tor A che cosa Ai soldi Alla crescita personale In un'altra squadra Che sono tutte cose lecite Ma tu Hai comunicato In una maniera Implicita Quello che è Che tu invece Volevi rimanere al Tor Nel momento in cui tu Adesso tu Metti davanti La crescita I soldi Sì i soldi Perché stiamo parlando I soldi e la popolarità Stiamo parlando di quello Soldi e popolarità Davanti alla tua fede Tu Cioè Decade Decade Tutto il motivo Per cui sei idolatrato Quindi questo non vuol dire Che allora bisogna insultare Buongiorno Pezzo di merda No Però A me non piace nemmeno Lo Jacopo Formi di turno O tutti voi Adesso non so Voi di preciso Che in maniera Tranquillissima E serenissima Fate passare il concetto Che Buongiorno Si è comportato In una maniera Naturale No Non si è comportato In una maniera naturale Se Totti Fosse andato a Real Madrid Nel Che direva Che essere Real Madrid Nel 2004 Quando era Ma al tifoso della Roma Cosa che diceva Sì comunque Pupone Ti faccio tutti i miei Più grandi auguri No Lo mandavo a fanculo Ma perché era Totti Oneri e onori Tu ti proclami come Ti metti un livello superiore Rispetto ai giocatori A tutti gli altri E io lo apprezzo Lo apprezzo Ma se poi tu Ci pigli per il culo Perché Sceglie il livello normale Quello che voi stessi state giustificando Che sono d'accordo Una persona normale Che deve guardare i soldi Eccetera E allora mi decade tutto E allora sei Se non un buffone Sei un buffo Sei buffo Sei buffo A mio avviso Perché E concludo Anche se tu non hai Esplicitamente detto Io rimarrò Il Toro per sempre Ma l'hai fatto capire E sapendo tu Buongiorno Che tutti Ti idolatravano Per questo Tu dovevi fare Logbonnata Logbonnata vuol dire Vai davanti ai microfoni E dici Ragazzi Sapete una cosa però Che io comunque sia Tifo torto Quanto ma sappiate Sappiate che Io ho anche Altri interessi E tutto E lì dovevi apprezzare Tu sei stato zitto È stato zitto Mi hanno detto un cazzo Ma poi scusate Ma Buongiorno Si è accorto adesso Perché Qualcuno è te Perché il Toro Se fosse andato in conferenza Allora sarebbe rimasto Ma Buongiorno Si è accorto adesso Che il Toro È una squadra di merda Cioè non se ne era accorto L'anno scorso Fatemi capire Cioè qual è il concetto E poi dico l'ultima cosa Dico l'ultima cosa Che è fondamentale Se tu tifi toro E tu Sei innamorato di una certa cosa Che può essere una ragazza Una persona Una squadra Un'idea Un luogo Tu cosa fai Appena hai la possibilità Vai in un altro luogo Oppure cerchi di far sì Dall'interno Che quel luogo Che tu ami Cresca così come L'altro luogo Se tu sei forte E tifi per il Toro Non vai a Napoli Caro mio Non vai a Napoli Tu stai nel Toro E magari Ti incazzi con Cairo Non lo so Metti il tuo spirito Vincente nella squadra E fai in modo Che il Toro salga Facile così Facile così Buongiorno Sei un giocatore Come tutti gli altri Quindi non lo si insulta Ma non gli si fa nemmeno Questo Questo addio Grande Grande cazzo Sei un giocatore Come tutti gli altri Non lo insulti Ma non lo esalti Non lo esalti E un giocatore Come tutti gli altri Fanculo Non sei quello che Se una persona buffa Non sei quello che sembravi Se un giocatore come gli altri Bene Ciao Punto Chiuso Io la penso così Ma Il fatto è un altro Cioè tu vedi per esempio Allora L'anno scorso L'anno scorso È rimasto L'anno scorso è rimasto Nonostante L'offerta dell'Atalanta E tutti quanti eravamo gasati Anch'ero gasato Tutti eravamo gasati Per questa cosa E Sfido Sfido chiunque a dire il contrario Sfido chiunque Ma Le cose Le cose In un anno Cambiano In un anno Come per esempio Perché Perché per dire La nazionale Non si qualifica direttamente All'europeo da campione in carica Perché in quattro anni Cambiano un sacco di cose In un anno Delle cose cambiano Noi non sappiamo Cosa è successo dietro Dietro le quinte Noi non lo sappiamo Cosa è successo Per quanto ne sappiamo A una certa Buongiorno e caro Si possono essere trovati Possono essere presi Allegnate Per quanto ne sappiamo Noi non lo sappiamo Noi questo non lo sappiamo Ma quello che stiamo assistendo Di nuovo Anche con Buongiorno È la stessa Identica cosa Che è successa Quando e su Quando se n'è andato Belotti Quando se n'è andato Cerci Quando se n'è andato Immobile Para para le cose Il giocatore se ne va Perché vede Capisce con chi sta avendo a che fare E dice No qui non hanno la più palida idea Di quello che vogliono fare Non c'è la più palida Perché non c'è la più palida idea Di quello che si vuole fare Nella società Torino Nessuno ha le idee chiare Nessuno sa cosa vuole fare E dico Vado in un posto Vado da qualche parte Dove invece Le cose le sanno fare E allora Il tifoso Il tifoso medio Vabbè poi Cerci Immobile a Champedre Il tifoso medio Del Toro Non è che pensa Ma magari Cioè Il motivo per cui Se ne è voluto andare Nonostante questo È perché Abbiamo una società di pagliacci No no La colpa sarà sempre Del giocatore Ma tu Giovanni Se fossi il giocatore del Toro Sarei segnato via Sì Sì Io me ne sarei andato tranquillamente E da quando Io ti fò il Toro E da quando E da quando E da quando Si diceva Belotti se ne va Belotti rimane Che io faccio sto discorso sempre Io sto discorso Io sto discorso Del Io sono tifoso Io sono tifoso del Toro Vedo che Non si vuole fare Un minimo miglioramento Cosa rimango qui a fare Lo faccio io Perché non lo deve fare Un professionista Noi siamo passati Dal mettere a ferro e fuoco No mettere a ferro e fuoco Però a fare una rivolta Letteralmente Perché veniva venduto Lentini No era a ferro e fuoco Cioè mio padre c'era Quello era a ferro e fuoco Perché era stato venduto Lentini E in quel caso La colpa era della società Al Tutti Siamo passati da quello A tutti i giocatori sono mercenari Anche uno che si è fatto 17 anni 17 anni in questa società Uno che comunque Era uno degli In quest'anno Era uno degli unici Quattro Perché erano in quattro A uscire dal campo Che si poteva dire Sì va Ha effettivamente dato tutto Su di lui non si può dire un cazzo E siamo passati a questo Io vorrei sapere Qual è l'anello Cosa mi sono perso E ci sei perso una cosa Giova Che è il fatto che Il fatto di Edulcorare E mettere come Un grande valore Esaltare il fatto Che il signor Buongiorno Sia stato Da quando era piccolo Ad adesso Nel Toro Per me non ha senso Allora Buongiorno Non alla prima Perché è vero L'Atalanta ha rifiutato Ma alla seconda Offerte Poi C'è Il Napoli superiore al Toro Questo non ci piove Ma non è che dici Minchia L'ha chiamato Il Real Madrid Non è che ha la fiori Ma a parte quello Uno potrebbe dire Buongiorno giustamente Dice magari piano piano Arriverà il Real Madrid Può anche essere Il punto qual è che Voi esaltate Il fatto che è un bambino Che poi è un ragazzino Che poi è un adulto Banalmente cosa fa Non ha nessuna offerta Nasce a Torino Gioca nel Toro Nel Toro di Pulcini Giovanni e tutto quanto Arriva in prima squadra Rimane nel Toro Gli fa l'offerta all'Atalanta E a quel punto Ripeto Ottimo Mi fa capire che Nel livello superiore Rimane Alla seconda offerta Va via Cioè Nel momento in cui va via Ripeti Non sto dicendo che bisogna insultarlo Pezzo di merda No Però Non sei più Non c'è Non sei più Quello che hai fatto prima Non ha più valore Possiamo dire una cosa Il valore di buongiorno In più rispetto agli altri È il fatto che È rimasto Non in 18 anni Che è stato Toro O quanto è stato 25 anni Ma in quell'anno lì L'unica cosa che può rimanere È il fatto di dire Cazzo buongiorno Però ha fatto un anno Al Toro In più Rispetto a quello che poteva fare Uno Questa stagione Perché appena ricevuto L'altra offerta Ne sei andato Ma scusa ragazzi Poi Giovi sono il primo a dire Che Te l'ho detto prima È normale Che un giocatore di calcio Gioca in una squadra Ed è un mercenario Un lavoratore Io che lavoro Nell'azienda X Che non dirò mai quale Che non è il Torino Ma è chiaro che Io non è che Non è che Ho un amore Io tifo Quest'azienda No Io ci lavoro Perché mi pagano Giustamente Rodriguez Ma anche lo stesso Belotti Che tutti voi esaltavate Quando Belotti In realtà Non è mai stato Tifoso del Toro Semplicemente Si è accollato Il grande affetto Ma Belotti Non ha mai rifiutato Un'offerta In nome del tifo del Toro E quindi ci sta Che se ne sia andato Ma tutti quanti Buongiorno Un caso particolare Io dico solo una cosa Perché continuate A esaltare Una persona Che ha semplicemente Fatto una cosa È stato un anno in più Nel Toro Minchia E poi ti dico una cosa A me Perché è successo A me Io se Fossi in Serie A Nel Toro Io al 99,9% Rimarei nel Toro a vita Perché Vorrei Perché sono tifoso del Toro Perché voglio Che il Toro salga Poi c'è anche Una possibilità Su Cento Che inaltava da via Però Io in quanto Tifoso reale Del Toro Come siete voi Cazzo Ma se gioco nel Toro Per me il Toro È il punto d'arrivo Anche perché stiamo parlando Adesso Questo è magari L'uomo comune Perché più hai soldi Più ne vuoi Lo so Però Cazzo Sei un privilegiato Sei idolatrato nella tua città Hai tantissimi soldi È tutto Se tifi Realmente Toro È una cosa Che proprio Senti tantissimo Porca Toro Rimani nel Toro Non rimani nel Toro Sei una persona normale Come tutte quante Come siamo Come siamo tutte noi Nella vita Ma mi sta sul cazzo Che venga idolatrato Io lo vedo così E Belotti Non c'entra nulla Belotti Perché non hanno mai Fatto nulla Che facesse capire E dichiarato Che erano tifosi del Toro Non ha mai ripetuto Un'offerta Perché Attenzione Se tu ti metti Nella condizione Di essere visto Come un Emperor Come il King Degli ideali A quel punto Se poi però Tu li rinneghi Non è che diventi Una merda No Semplicemente Passi ad essere A livello 10 A livello 6 E quindi Non sei più venerato Per me Buongiorno È un giocatore Come tutti gli altri A questo punto Chi sto e tu che dici Ok Io volevo Volevo soffermarmi Su una frase Che Mi è rimasta impressa Da quando ho visto Quel video Io infatti Tutta la parte finale In cui davano Dei rincoglioniti Napoletani Non l'ho vista Perché ho visto Questo video E l'ho chiuso subito Perché non volevo Più vedere niente Non volevo Sapere più niente Questa storia Prima bisogna guardare avanti Ai giocatori che abbiamo Comunque Una frase Che come ha detto Prima Giovanni Una volta Si dava ferro E fuoco Per i nostri giocatori E tutto E come siamo passati A A una persona A un tifoso del Toro Che ti dice Vai a vincere Quello che devi E poi torna Ma Cristo di Dio Siamo noi Quelli che dobbiamo vincere Porco Dio Ci volevo arrivare Bravo Questi sono perfettamente D'accordo Siamo noi Quelli che dobbiamo vincere Noi gli altri Mi sono rotto il cazzo Anche quando Darmiander Era andato a Manchester Mi ero dispiaciuto Vai lì Vinci Ma che cazzo Qui devi vincere Siamo noi Quelli che dobbiamo vincere Bastardo di Cairo Capisci cosa sto dicendo E motivo per il quale Doveva rimanere anche Buongiorno infatti Ma c'è anche un'altra cosa Ma ora Io non ti dico Che noi dobbiamo fare Ogni anno Ogni anno Chiudere il campionato Con 38 vittorie su 38 Dobbiamo vincere La Coppa Italia La Champions League La Supercoppa Ma chi ti dice Ma siamo veramente Passati Dal avere Passare la leggenda Del grande Torino Paolo Pulici La finale di Amsterdam La Coppa Italia Siamo passati da queste cose A Eh vai a vincere Da un'altra parte Perché non si può Non si può vincere qui Non si può vincere qua Cioè E poi glielo dice un adulto Cioè uno che l'ha visto Il Toro dell'Arna E però questo discorso Vale pure per buongiorno ragazzi Questo discorso Dovrebbe valere pure per buongiorno Buongiorno se dovrebbe dire Io cerco Anche se è difficile Ma perché ti fa toro Di cercare di vincere qua Non lo va Ok È una persona normale Come tutte Perché gli danno 3 milioni Perché alla fine È brutto dire Io ho fatto tutti i miei ragionamenti Ma alla fine Lui è andato là Perché gli ha andato 3 milioni di stipendio Fine E Cairo non gliela Ha preferito i soldi Alla fede Giusto? Sì Secondo me sia Diciamolo però Diciamolo Scusa Se una persona Preferisce i soldi Alla fede Non è un grande È una persona normale Facciamo un attimo Un confronto Facciamo un attimo Un confronto Facciamo un attimo Un confronto Come dice Darren Siamo tutti Sono tutti dei lavoratori loro Ok? Sono dei lavoratori Prendono uno stipendio Ok Adattiamo questa cosa Al mondo Al mondo del lavoro In una Sei in un'azienda Tu hai la famiglia Che ha lavorato Sempre in quell'azienda Hai lavorato sempre In quell'azienda Hai fatto Lo stage Tutto E tu hai delle idee Per migliorare Quell'azienda Ma il tuo capo Lascia sempre le cose a metà Il tuo capo Lascia sempre le cose a metà Non prende Non prende minimamente sul serio Le idee che proponi tu Però il tuo capo Lascia sempre le cose a metà Fa sempre Cioè Prende un impiegato Magari arriva un impiegato E beh Fa benissimo Quell'impiegato Poi quell'impiegato Lo lascia andare da un'altra parte Lascia sempre le cose a metà Quell'azienda non cresce Rimane in uno stallo Al che Scusa Tu Come diciamo Come dicono in tanti Il calcio È cambiato Negli anni Le bandiere Non esistono più Purtroppo Purtroppo Se tu arrivi Ti arriva un'altra azienda Che è come te Perché Il Napoli Parlando del Napoli Come si è classificato L'anno scorso È come te È come te Ti arriva ma Ti dice Fammi finire Fammi finire Il Napoli è superiore Sì vabbè Però per come si è classificato L'anno scorso Non vuol dire Giova Questo non vuol dire Il Napoli Questo bisogna dirlo È un'azienda superiore Molto superiore Al Toro Allora fammi cambiare Fammi cambiare Ti arriva un'azienda superiore Che però l'anno scorso Ha fatto peggio di te Con un direttore Che ha lo stesso livello del tuo Tra l'altro Con lo scherzo e con il direttore Che ha lo stesso livello del tuo Allora in quel caso Tu vedi che Quell'altra azienda Però Fa Delle cose per migliorarsi Cambia 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 il CEO Cambia il CEO Fa degli investimenti importanti Fa vedere Di voler migliorare Tu cosa fai? Rimani l'istantio Oppure vai da un'altra parte? Dipende dal punto di vista Dal punto di vista Tuo Personale Se tu vuoi solo il tuo bene Vai da un'altra parte Ma Se tu mi hai detto che Quello che ha il rapporto Con il mondo del lavoro Infatti ha questo bug Cioè ne so Se tu ami Se tu lavori alla lavagna E per qualche motivo assurdo Però Questo è Se vuoi fare questo paragone Per questo è che non si può fare il paragone Tu Hai Giurato Sì comunque tu hai Una fede Perché Bevo solo quel caffè A parte la lavazza Con buongiorno ci sta Bevi solo quel caffè Tu Fai di tutto Perché la lavazza Cresce Tu ci tieni proprio la lavazza In quanto tale Al di là Cioè tu quando eri bambino Ti favi per la lavazza Volevi che la lavazza Andasse avanti Di fatturato Fosse la prima nel mondo A quel punto Se ti chiamano la chimbo Se ti chiamano la chimbo Se ti chiamano la chimbo Tu non prendi il treno espresso Per andare alla chimbo Ma In nome dell'amore Per la lavazza Anche se c'è un direttore Che non fa passi avanti Non c'è prospettiva di crescere Tutto Dici no Io rimango qui Tanto sono Sono pagato benissimo È normale l'ambizione Sì ma tutto Allora Buongiorno Allora Buongiorno E una persona Si è rivelato All'essere Diciamo All'essere Una persona normale Questo vuol dire Che devi insultarlo Bisogna entrare E cerchi tu col tempo Chiaramente che non sarà domani O fra un anno O fra tre anni Ma col tempo Tramite il tuo carisma Perché buongiorno Avendo dalla propria parte Comunque Con il tuo carisma Magari puoi anche tu di tuo Stimolare l'ambiente Stimolare i giocatori Anche in qualche modo Mandarvi a Cairo Alla lunga Tu puoi agire da dentro Buongiorno Non ho voluto farlo Eh non sei più l'Emperor Caro mio Sei un giocatore come tutti gli altri Caro buongiorno Ti dico solo ciao Non ti dico A Rodriguez Perché nessuno Ma Rodriguez Perché non gli sono andati vicino E Rodriguez Dov'è che va Rodriguez Spero che tu Doveva Spero Rodriguez che tu Quando andrai A giocare nel Cerignola Spero che farai Che vincerai lì Perché nessuno Perché nessuno Dice nulla Rodriguez Lo vanno a salutare A Buongiorno sì In nome di cosa Cosa ha Buongiorno in più Io questo che non capisco Cosa ha in più Niente Per me Volevo dire qualcosa Pisto Vai Comunque Cioè lui non è che è andato lì Per un'altra azienda Lui è andato solo ed esclusivamente Per il Sio Cioè Antonio Conte Di conseguenza Per migliorare se stesso Secondo me Perché sa che Conte Quei difensori Li trasforma in dei fenomeni Cioè lui solo ed esclusivamente È andato lì per quello Secondo me Cioè non è andato lì Per altra azienda O per vincere chissà cosa Lui è andato lì solo ed esclusivamente Per se stesso Secondo me Questa è la mia idea Perché io Non so se lo posso dire Vabbè lo dico Conosco una persona Un mio amico Che è comunque Amico di Buongiorno Lì è vicino no E comunque lui mi ha detto In più occasioni Che comunque Alessandro è proprio È proprio tifoso del Toro Come noi Quindi secondo me Lui è arrivato a un momento Che fa la stessa Scissione mentale Che faccio anch'io Un conto è il Toro Che è la mia fede E l'altro è il Toro Società Cioè quella gestita da Cairo Poi io da Ryan Sono d'accordo con te Su quello che hai detto Che doveva provare A cambiare lui la situazione Però io Non escludo Che come diceva prima Giovanni Loro si siano legnati in privato Perché potrebbe essere successa Questa cosa Cioè Non lo escludo Che non sia successo Secondo me è successo Buongiorno probabilmente Più volta Avrà proposto delle cose Che Cairo Le ha bocciate tutte Anzi Non le avrà nemmeno risposto Probabilmente Conoscendo Cairo Secondo voi a Cairo Non è stato sul cazzo Il fatto che Buongiorno L'anno scorso Ha rifiutato l'Atalanta Cairo secondo me L'ha preso in antipuglia Per quella cosa Gli ha fatto perdere Un sacco di soldi L'anno scorso Perché Schurz Non se ne è voluto andare Quell'altro Non se è voluto andare Buongiorno È voluto rimanere E non ha guadagnato un cazzo E gli è rimasta qua A questa cosa Sì sì Buongiorno ha messo Se stesso davanti al Toro Cosa lecita Che lo fa diventare Una persona normale A me fa l'idea Quando ho detto Che praticamente Cioè Quando ho detto Buongiorno in realtà Va a Napoli Perché vuole migliorarsi Mi è venuta in mente L'associazione Coltizio di Granata Express E mi è venuta in mente Che mi immagino Buongiorno Che dice Adesso vado a potenziarmi Tipo Goku Sulla spiaggia Mi potenzio lì a Napoli Per tornare più forte al Toro E se fosse così Ma non penso Ando per i soldi Ma giustamente Giustamente Ma vediamo Non abbiamo Non abbiamo la sfera di cristallo La di Chiaroveggenza Almeno io non ce l'ho ancora Il dono della Chiaroveggenza Quindi non lo so Può essere come no Vabbè Questa cosa Tu dici che Buongiorno può essere andato lì Avendo in testa Il fatto che così Si rafforza E torna al Toro più forte Non lo so Non lo so Di tornare non lo so Però di rafforzarsi sì E comunque io so Che lui Comunque è un vero tifoso del Toro Contrere di altri Città di prima come Belotti Che era qui Ma cosa vuol dire Scusa però Scusa Cosa vuol dire per te Essere tifoso del Toro A questo punto Non lo so Cioè in che senso Cosa vuol dire Vuol dire Tu dici Però buongiorno Nonostante tutto quello Che ho detto io Comunque rimane un vero tifoso del Toro Ma la mia domanda è Cosa vuol dire per te Nei fatti Non nel dire forza Toro Nello sperare che il Toro vinca Ma nei fatti Cosa vuol dire Se sei un giocatore di calcio E giochi E hai la possibilità Di giocare nel Toro Essere tifoso del Toro Cosa vuol dire Cosa ha preso un po' In questo momento storico Con questa presidenza qua Io al contrario Suo sarei rimasto il Toro E avrei portato i tifosi Cioè Il lavoro che doveva fare lui Secondo me Era molto più fuori dal campo Che dentro il campo Questo Poi lui ha fatto la sua scelta Perché? Perché lì c'è Conte Sono scelte diverse Ma siamo tutti uguali Io non ho scelto il Toro 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 Come? Come Giovanni? Sicuramente Io quello che sto cercando di dire È che Tutti quelli che Nella storia Nella storia Da quando c'è Cairo Se ne sono voluti andare Sono arrivati Se ne sono voluti andare Io non ho mai Di loro criticato La volontà di andarsene E non lo farò neanche con Buongiorno E non lo farò neanche con Buongiorno Le uniche cose che criticavo Erano i metodi Era il modo Con Maximovic Mi si sono girati i coglioni Con Maximovic Vi ricordate come ci ha trattato Maximovic? Ve lo ricordate? Sì, sì, sì Immobile, Cerci Ma con Cerci Vabbè che balzaretti Comunque è stato venduto Cioè Alla fine era venuto fuori Che era di nuovo Cairo Che l'ha venduto all'ultimo Per intascare i soldi Senza manco dirglielo Cioè Ragazzi Cairo 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 è il villain Cioè È come dire Io vorrei che Ursula Della Sirenetta Minchia fosse più Allora Cairo È un È una roba Cioè Cairo è quello Non si può pretendere Lasciamo stare Perché tanto Criticare Cairo È giustissimo È facilissimo Tanto è così Basta Il problema è quello Che tu devi riuscire Secondo me A Cairo È come fosse un ostacolo Tu sei buongiorno Corri Devi saltarlo Non sarà facile Ma in nome dell'obiettivo Che è un toro vincente Lo salti Criticare Criticare l'ostacolo Non serve a nulla È un pezzo È un pezzo che dà fastidio Cairo è una cosa Che dà fastidio Tu Dal punto di vista Tu di buongiorno Tu Cazzo Se tu fossi Veramente Tifoso del toro Ma questo tifo Fosse un tifo Totale Tu rimanevi Facendo anche un lavoro Come ha detto Pisto Dall'interno Dall'esterno Ma rimanevi Non lo fai Io non metto in discussione Il fatto che Buongiorno ti fa toro Anche però comunque Ognuno C'è i suoi cazzi Poi magari Buongiorno ha anche Le sue cose che non sappiamo Io ci non voglio criticare Buongiorno A me da fastidio Il fatto che si rimanga All'interno di un Di un mood Di idolatria Nel confronto di una persona Che non si è rivelata Nei fatti Quello che fino al momento Era stato Poi un conto dice Minchia Buongiorno è rimasto al toro Per dieci anni Dopo aver rifiuto Atalanta Napoli A un certo punto Per chiudere la carriera Per dire Va al Milan E con un altro discorso Ma tu Buongiorno mio Sei nel fiore delle tassi Puoi dare il massimo Puoi dare il massimo Il massimo lo dai al Napoli Non lo dai al toro Va bene Sei una persona Che stimo Non stimo Che rispetto Sei una persona come tutte Ma non ti idolatro Ti saluto Dicendo vabbè Ciao Basta Esatto Infatti io Andato via Ho chiuso tutto L'ho unfollowato Tanti saluti Perché Non è che l'ho unfollowato Perché l'odio Ma perché mi dà fastidio Vederlo con un'altra maglia Come feci con Belotti Mi dà fastidio Basta Ma buongiorno Lo sa che l'hai unfollowato Cosa? Lo sa buongiorno Che l'hai unfollowato Non lo so Glielo scrivo in live Glielo scrivo adesso Vediamo Glielo scrivo in diretta Glielo scrivo in diretta Ah aspetta Glielo scrivi da qui Aspetta Glielo scrivo in diretta Da qua No la c'è No perché No la c'è privata No glielo scrivo Fammi pensare Adesso l'ho scoperto No per qualsiasi messaggi aperti Glielo scrivo in diretta Raga vi saluto Perché devo andare Sì ma infatti adesso vi saluto Vi salutiamo tutti quanti Grazie Pisto Grazie Giovanni E ci vediamo comunque Per la seconda stagione del Torocast Un format Attualmente di reaction Se non vi piacciono le reaction Ragazzi Discrivetevi A questo canale E iscrivetevi Ad altri Canali Ciao a tutti Ciao a tutti Buongiorno 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 a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti Buongiorno a tutti